Siamo ancora qui con Patrizia Asproni, la Presidente della Fondazione Turino Musei. Le chiediamo, anche appena avuti i risultati delle elezioni europee, quali rapporti il Piemonte, la cultura del Piemonte ha con l'Europa? Intanto l'Europa è fondamentale, i prossimi fondi arriveranno dall'Europa con i due grandi progetti europei che sono i programmi europei che sono Creative Europe Horizon 2020. Il Piemonte è assolutamente pronto, sia perché ha sviluppato moltissimo il proprio polo tecnologico, sia perché appunto ha sviluppato moltissimo la parte che riguarda le industrie creative e culturali. Quindi questo sarà un altro asset sul quale fare leva per lo sviluppo dei prossimi cinque anni a livello territoriale. Quindi Europa e territorio legati insieme da un progetto comune con un grande respiro verso l'esterno. Grazie per la visione!